Buongiorno e ben ritrovati a un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. I 107 mila bambini e ragazzi del Friuli Venezia Giulia domani torneranno in classe alla scuola dall'infanzia, alle elementari e alle medie. I 48 mila studenti delle superiori invece non siederanno sui loro banchi prima di febbraio per loro didattica a distanza per tutto il mese di gennaio. A livello nazionale si procede in ordine sparso, nonostante il tentativo del governo di prevedere un'unica data per oggi, ogni regione si sta organizzando per conto proprio. 107 mila bambini e ragazzi del Friuli Venezia Giulia domani torneranno a scuola al termine delle vacanze di Natale. Rientreranno in aula 26 mila piccoli della scuola dell'infanzia, 49 mila alunni delle elementari, 32 mila delle medie. Sono 5 milioni in tutta Italia. Per il ritorno sui banchi degli studenti delle superiori, 48 mila, bisognerà attendere in Friuli Venezia Giulia il primo febbraio a fronte dell'ordinanza firmata lunedì dal presidente della regione Massimiliano Fedriga. La stessa cosa succederà in Veneto, nelle Marche e con ogni probabilità anche in Sardegna. Da domani comunque gli studenti delle superiori riprenderanno a studiare con la didattica a distanza. A livello nazionale si riparte in ordine sparso. La ministra dell'istruzione Lucia Azzolina assicura che le superiori torneranno in classe l'11 gennaio, visto che il problema dei trasporti è stato risolto. La data è quella stabilita dal governo con il decreto ponte. Tuttavia ogni territorio si sta organizzando in autonomia. La campagna riaprirà lunedì 11 gennaio per la scuola dell'infanzia e le prime due classi della primaria. A partire dal 18 gennaio sarà valutata la possibilità del ritorno in presenza per l'intera scuola primaria e dal 25 per la secondaria, di primo e secondo grado. La Calabria proseguirà con la didattica a distanza alle elementari fino al 15 gennaio, alle superiori fino al 31. In Puglia didattica integrata per tutti fino al 15 gennaio, didattica a distanza per gli studenti fino al 17 gennaio anche in Molise. Il tema della scuola sarà al centro della puntata di questa sera di Eletroshock, in onda alle 21. Parola all'amministrazione regionale, ai dirigenti scolastici, alle famiglie e agli studenti. Si è svolto questa mattina ed è appena terminato il vertice tra il governo e le regioni per un aggiornamento sul personale sanitario e socio sanitario nella campagna di vaccinazione. Alla riunione è convocata dal ministro per l'autonomia Francesco Boccia, oltre ai vari governatori, il ministro della salute Roberto Speranza e il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri. Siamo alla cronaca, un operaio manutentore di 44 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri a causa di un malore. L'uomo è stato trovato senza vita in un albergo del Cividalese a dare l'allarme. Sono stati colleghi di lavoro che non avevano visto rientrare in cantiere e che inutilmente avevano tentato di mettersi in contatto con lui. L'uomo si era assentato qualche ora prima del termine del turno perché aveva accusato un malessere. Si tratta di un cittadino della Lombardia in Friuli con l'azienda per cui lavorava come manutentore. Trattorini tagliaerba dati alle fiamme. Nella sede dell'associazione sportiva dilettantistica Paintball Renlai di Codroipo è stato scoperto un atto vandalico avvenuto con tutta probabilità tra il 17 dicembre e il 2 gennaio. Dopo aver forzato la porta d'ingresso del deposito della società e gnoti hanno incendiato i due mezzi danneggiandoli e il danno ammonta circa 1000 euro, indagano i carabinieri di Codroipo. Anche i guastatori di Udine sono scesi in campo per l'emergenza neve a chiedere il loro aiuto la prefettura di Belluno per l'emergenza neve che sta affliggendo il Cadore. Così 15 guastatori specializzati nella conduzione di macchine movimento terra e operatori di attrezzature speciali hanno raggiunto Santo Stefano di Cadore. Lì la situazione è critica per la grande quantità di neve sui tetti degli edifici. Grazie al terzo reggimento sarà possibile liberare le strade principali per permettere il ripristino della viabilità soprattutto per i mezzi di lavoro e di soccorso. Nel periodo natalizio i controlli della Polizia Municipale di Pordenone hanno permesso di smascherare e sanzionare alcuni furbetti dei rifiuti immortalati dalle foto dei vigili. Non si sono fermate le attività di accertamento da parte della Polizia Locale di Pordenone e Cordenons nei confronti dei furbetti dei rifiuti. Durante le festività natalizie sono stati effettuati controlli mirati rilevando alcune irregolarità. In tre occasioni a Pordenone nelle giornate del 29 dicembre, 3 e 5 gennaio i trasgressori sono stati ripresi e fotografati nel corso dell'attività di controllo mentre scaricavano alcuni sacchi dai propri veicoli incuranti della raccolta differenziata accostandoli nelle vicinanze della piazzola ecologica. Per i trasgressori uno dei quali proveniente da un altro comune è scattata la contestazione della violazione amministrativa e la sanzione pecuniaria di 150 euro. La persona che è stata pizzicata fuori comune si è mossa peraltro in un giorno di zona rossa e anche per questo è stata sanzionata in merito alle attività anti-covid. L'attività di accertamento contro l'abbandono della spazzatura in alcune zone della città è uno degli obiettivi dell'amministrazione comunale ed è costantemente monitorata dagli uomini del Corpo Intercomunale della Polizia Locale di Pordenone e Cordenons. L'invito ai cittadini è quello di continuare a segnalare alla Polizia Locale attraverso i canali istituzionali questi episodi in modo da consentire al comando di attivarsi ed individuare i responsabili. Da un'indagine effettuata da Ipsos per conto di Save the Children emerge che un terzo degli adolescenti si dichiara stanco della situazione da emergenza covid. Più di un ragazzo su tre ritiene che la propria preparazione scolastica sia peggiorata, mentre 4 su 10 pensano che la didattica a distanza comporti ripercussioni negative sulla capacità di studiare. Un quadro preoccupante, commenta la neuropsichiatra Silvana Cremaschi, secondo la quale però i giovani hanno tante possibilità di rinascita sia per la socializzazione che per la preparazione culturale. Sono dati preoccupanti questi che emergono dalle considerazioni dei pensieri appunto degli adolescenti? Ma un po' sì, un po' sì perché questo è un tempo che i ragazzi stanno vivendo e che devono vivere adesso, c'è uno a 15 anni lì adesso. I giovani di fronte alle situazioni di emergenza hanno sempre reagito attivandosi per trovare una risposta. Adesso noi ragazzi chiediamo fermati, stai fermo sul divano, bloccati, isolati. Non c'è un problema attivati, che è quello che un adolescente in modo connaturato dovrebbe fare, sente di dover fare. Quindi li stiamo proprio chiudendo, bloccando e tartando. Io credo che dovrò anche pensare a come chiedere ai ragazzi di attivarsi per portare i viveri, le medicine a casa della gente, con tutte le regole, con tutte le attenzioni ovviamente, però farli sentire protagonisti in qualche modo della rinascita. Dal punto di vista relazionale non è un anno perso se approfittiamo di questa situazione per pensare che prima ci trovavamo nel gruppo senza averlo scelto. Adesso che questa cosa non c'è più, siamo costretti a costruirlo noi, però se vissuto in positivo può essere una cosa importante. Io capisco quali sono le persone che contano davvero per me. L'altra cosa importante è che forse nella vita un po' frenetica che avevamo prima non c'erano mai dei momenti di noia e di chiedersi ma io cosa faccio, cosa mi piace fare. Allora la noia in adolescenza è importante e un pochino noi l'abbiamo rubata ai ragazzi. L'opportunità è quella di dire ma c'è qualcosa che io anche da solo posso coltivare? Dipingere, disegnare, scrivere poesie, informarmi su alcune cose. È stato acceso ad Aris di Rivignano Teori il primo e finora unico Pignarul del 2021 Nel silenzio e nella solitudine del parco di Villa Otelio Savorniani ieri notti è stato dato alle fiamme il tradizionale falò epifanico. Ad assistere alla sua accensione c'erano solo quattro persone. L'importante, ha riferito l'assessore Massimo Tonizio, era dare un segno di continuità nonostante tutto. Alcuni esemplari di cervi sono stati salvati. Erano bloccati nella neve e impossibilitati a muoversi nell'area faunistica di Forni di Sopra, tra i quali anche un maschio dell'età di 4 anni sono stati raggiunti e recuperati con operazione complessa. Impegnati nel soccorso un'intera giornata conclusa con l'arrivo degli animali alla riserva naturale regionale del lago di Cornilio. Vi resteranno fino a quando le condizioni ambientali tornano idonee alla loro reintroduzione nell'area faunistica di Forni. Dopo le prime due forti scosse di terremoto in Croazia, il blocco automatico della centrale nucleare di Kursko, il centro di radioprotezione regionale dell'ARPA, Friuli Venezia Giulia, ha attivato un monitoraggio speciale per controllare l'eventuale presenza di livelli anomali di radioattività in regione. Cosa è successo? Quando c'è stata la prima scossa, quella meno forte, avevamo naturalmente verificato, sentito il rimbalzo con l'Istituto Centrale di Roma, quindi Ljubljana avvisa Roma che avvisa noi, sapevamo che non c'erano problemi, la centrale ha continuato a funzionare perché non c'erano problemi. Con la seconda scossa più forte, automaticamente la centrale si ferma e vengono fatti tutti i controlli sulla centrale e poi la centrale è ripartita. Noi abbiamo intensificato i controlli e continuato a controllare. Tra l'altro abbiamo pubblicato anche sul nostro sito, se non sbaglio il 30 o il 31 di dicembre, abbiamo proprio chiuso dicendo tutto quello che avevamo fatto e misurato. Ovviamente continuiamo a controllare, il terremoto come ben sappiamo da Friulani non finisce in un giorno e quindi continueremo a controllare. Noi facciamo parte della rete nazionale che a sua volta fa parte della rete europea. Tra l'altro tutti i cittadini possono andare sul sito di EURDEP e vedere sempre tutti i dati in continuazione sia di questa centralina che di tutte le altre in regione, di quelle del sistema nazionale, ce ne sono altre quattro presso le nostre sedi ARPA, ma anche quelle intorno a Kersko. Cioè chiunque può andare a verificare, la ingrandisce, fa lo zoom, ci clicca sopra e legge la misura intorno a Kersko. Quindi ormai siamo nel mondo della trasparenza giustamente, dei dati ambientali e quindi chiunque può fare. Udinese in campo alle 15 a Bologna per cercare il primo risultato utile del nuovo anno. Telefriuli vi racconterà la partita poltronissima in onda dalle 14.30 fino alle 17.30 circa. Il pomeriggio sportivo proseguirà poi alle 18 con la diretta della gara Gesteco-Cividale-Tramarossa-Vicenza-Basket. Primo impegno del 2021 per la squadra di coach Pillastrini che al Paraperusini incontrerà un avversario fin qui imbattuto. Noi siamo in chiusura per l'informazione ma subito dopo la pubblicità appuntamento con A voi la linea. Buona giornata. Buona giornata.